Questa settimana vi propongo come rimedio letterario un libro di una scrittrice canadese che si chiama Miriam Toz e che si intitola Un complicato atto d'amore. Miriam Toz ha scritto vari romanzi, quasi tutti pubblicati in Italia e questo è uno dei suoi primi romanzi che sono arrivati nel nostro paese e racconta la storia di una sedicenne che vive con il padre in una comunità menonnita. Chi sono i menonniti ve lo faccio dire direttamente dall'autrice. Noi siamo menonniti, per quel che ne so è la sottosetta più sfigata a cui si possa appartenere a 16 anni. 500 anni fa in Europa un tizio di nome Mennon Simons si è messo di buzzo buono per inventarsi una religione tutta sua e lui e i suoi seguaci olandesi, polacchi e russi, sono stati ammazzati di botte o costretti a conformarsi finché alcuni sono venuti a cacciarsi proprio qui dove sono io adesso. Ironia della sorte hanno chiamato questo posto East Village, il nome del quartiere di New York dove vorrei tanto abitare. Altri si sono rifugiati in un gigantesco bacino di polvere chiamato Chaco in Paraguay, il posto più caldo del mondo. La mia amica Lidia viene da lì e mi ha raccontato un sacco di storie sulla pazzia causata dal clima. Aveva uno zio che andava regolarmente a sedersi su un truogolo capovolto nella piazza del villaggio e si metteva a urlare che qualcuno gli restituisse il cervello. Solo la sera ci si poteva azzardare a parlargli. Il concetto è che dobbiamo agognare la morte col sorriso sulle labbra e nel frattempo fino a quel benedetto giorno la nostra vita deve essere un facsimile della morte o come minimo dell'agonia. Ecco quindi come la scrittrice presenta la comunità menonnita e come presenta lo stile di vita quindi la filosofia che domina questa comunità. Perché ve ne parlo? Ve ne parlo anche sulla scia di un successo che sta avendo in questo periodo una serie di Netflix che si intitola Una Orthodox e che forse qualcuno di voi ha visto e che parla di una ragazza che sfugge da un'altra setta da un'altra comunità in questo caso una comunità ebraica ciassidica ultra ortodossa che si trova in un quartiere di Manhattan a New York. Sia i menonniti che la comunità ultra ortodossa new yorkese sono comunità realmente esistenti che contano anche centinaia di migliaia di persone che vi appartengono. Tutte e due queste narrazioni sia quella della serie tv sia quella del romanzo di cui vi sto parlando sono narrazioni che raccontano i desideri di fuga come fuggire da realtà che sono socialmente insopportabili per le protagoniste della narrazione. Non stiamo adesso a vedere perché sono insopportabili in genere comunque è per un insieme di regole che sopravvanzano i desideri individuali e che molto spesso quasi sempre umiliano e mortificano le donne appartenenti a queste comunità le donne anche le ragazze quindi ma ve ne parlo soprattutto perché tutti e due questi prodotti artistici culturali hanno in comune l'idea che è necessario coltivare un'idea di evasione che è necessario coltivare l'istinto alla fuga, sognare, sognare di essere altrove, sognare di avere vite diverse ma è come in questo momento noi abbiamo bisogno di fare altrettanto di decodificare la giustezza o meno delle regole che ci vengono imposte dall'ambiente sociale in cui ci troviamo e la necessità che abbiamo comunque di coltivare dei sogni di evasione che non vuol dire quindi trasgredire immediatamente ma vuol dire fare un percorso mentale per immaginare quello che può essere al di là dei confini che ci sono imposti dalla nostra cultura o come nel nostro caso da una situazione da una circostanza del tutto particolare un complicato atto d'amore è una dichiarazione d'amore in realtà per la famiglia menonnita della scrittrice della protagonista del romanzo è un atto d'amore complicato perché mette insieme appunto il desiderio di rimanere legati affettivamente alle proprie origini con l'impulso a voler vedere cosa c'è al di là di queste radici ed è secondo me un importante rimedio per la situazione psicologica difficile in cui ci troviamo perché ci dice questo che dobbiamo essere qui ma dobbiamo anche riuscire a pensare cos'è al di qua dei confini a cui in questo momento siamo costretti serie e soprattutto romanzo e tutte le altre produzione di questa veramente simpatica brava autrice canadese sono un rimedio al nostro senso di frustrazione sono un rimedio alla paura e sono un inno alla libertà che comunque in ogni momento dobbiamo coltivare dentro di noi grazie